salve e rieccoci ancora sui text 2 a caccia di vespe ognuno ognuno per i fatti suoi ognuno per i fatti suoi ognuno con suo viaggio ognuno diverso vabbè di citazione vasco rossi così a casa ognuno con la propria ape maio esatto ora ora che cosa dobbiamo fare devi mirare quando la vedi o a no 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 ok gioia abbiamo ognuno per un percorso diverso mi sa ma dove devo mirare io gioia ho capito ferma tieni premuto e le due per mirare e tenere premuto premuto aspetta un attimo scusa qua c'è qualcosa che non spara eh ok ok ora va comunque devi fare e sparare a con l'amore ok si vabbè e devi sparare e correre subito vai vieni io oh ok ci stiamo nemmeno riuniti mi sentivo a sparare ok e mo che dobbiamo fare poi vado dritto no no io ho capito com'è la situazione aspetta spara sul melmoso ecco vedi combinato perché su esplosivi capito aspetta 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 ok a posto dai ok ok e mo aspetta un attimo aspetta fammi esaminare quello deve andare giù in qualche maniera dobbiamo capire come aspetta parla sparagli no ah aspetta aspetta non manco vai vai niente aspetta ah vedi io l'ho pesante il posto cosa e noi passiamo sto specie del cremino al caramello che che c'ho non serviva però va bene allora aspetta ferma ah ferma no no ferma molto semplice salire qua adesso dobbiamo salire là aspetta no sbagliato aspetta aspetta fammi ok aspetta ah c'è quello aspetta che ah ok lo sto si ferma 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 allora spara a sti cosi quale a questi che ci sono qua a terra oh perfetto a posto ferma ferma ora aspetta un attimo aspetta perché ora ho capito cosa devo fare ora con questo l'ho pesante l'ho pesante piccolo in modo tale che ok ci saliamo su salici tu devo salire sopra quella cosa malmosa no se so qua dove sono io sopra qua dove sono io forse devo sì no 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 perché non è qua la situazione aspetta 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 ti aiuto io ferma ti aiuto io facile ma dove andiamo ora ti sto abbassando la pedana ok adesso togli dobbia Devo salire sopra Devi salire dove sono io Sopra questa cosa arancione devo salire Non so per forza sulla me ma Devi salire dove sono io Oh ecco perfetto adesso ferma Sara perfetto Saremo qua Ok perfetto Aspetta che qua Dobbiamo passare qua Ok Ok Può capire la situazione Ok Spara A posto Andiamo Oh T'aspetto A posto A posto Spara Ok Poi Allora Allora Ok Andavi Ah ecco vedi Questo è pronto Con questo lo abbasso Ecco Credo che è il più basso di tutto possibile qua Ok E' Perfetto Adesso spara E adesso spara Allora Allora Perfetto E ora parliamo Ok E da qua E da qua Ah Non ho capito Capito Ora di nuovo Aspetta 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 Devi salire da Aspetta Ok Adesso Devi sparare qua sotto A il tico di arancione Se ce la fai Aspetta E saliamo là Ok Allora Io direi Qui va Ok Aspetta Anche qua penso a capire Allora Aspetta Faccio un vino E io Faccio qua Non si c'è Ah Ah Aspetta Ah Dobbiamo Aggrapparcela Ok Ok Adesso Tu spara Al cosarancione Sparagli Sparagli Ecco Così Adesso Sarò All'altezza Per Tippet Ok Ora E io Che ora Aspetta Darno Il sapo Non è Sticco Si sembra che Il squirrel Non è Fulbro Sparagli 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 no allora per un attimo capilla si questione allora ci sarà qualcosa di più provo a sparare dove ho messo la totale in gioco vai se batto i perni ciamola si provo a sparare per te ma dove? no ma io ero almeno guadagnino aspetta vediamo se di lato sono di lato fa la grampana no? infatti no magari un altro superficie funziona meglio aspetta e se invece appunto il figlio la si attacca no? no si attacca no si attacca si attacca amore fai qua dove? qua e parla quello deve venire tu con un certo lavoro non 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 è può essere saltellato se vuoi il fungo sai che il fungo può essere i funghi possono essere una soluzione eh eh non lo so volevo provare girati aspetta sono lì aspetta no e e come che è aspetta che qua ah ok ok per un attimo mi sa è saltato è saltato l'audio mi sa però vabbè niente allora non fu un cazzo non riesco ah mo in qualche modo sei appassionato quella cosa secondo me in gancio vabbè io l'abbasso ma salta tu r1 stavo in bagno però r2 ho sbagliato però c'è un problema ora la vedrai e il problema e il problema è che si ora stai caggessi a meno che no no non ci arriverai mai sicuro aspetta torna indietro torna indietro torna indietro torna indietro torna indietro torna indietro ok fa niente allora ma ma e non volevo vabbè lo stesso allora ma portati quella trota allora aspetta ok bene bene ok sparo quando ti dico io però adesso sparai ok voglio vedere se riesco ad arrivare lì mannaggia vai vai no non ci arriva non ci arriva non ci arriva non ci arriva ma quei funghi ah mo può essere che ti vedo non le sue funghi no non ha senso perchè già i funghi ci arriviamo da qui cacchio si è fuori aspetta intanto voglio vedere se ecchi l'apo l'apo ah il fungo è fine a se stesso e questo l'abbiamo capito aspetta quando dico io aspetta 1 2 3 1 1 2 eeeh vai 1 2 3 1 2 dai di nuovo 1 2 dai amore 1 2 3 no non funziona giù mamma mia non funziona poi sai di sparare quella cosa qua sparo boh no non ci attacca si ma manco attacca ma va va prova a sparargli adesso non lo so io sono non non allora aspetta dico da qua sotto allora cioè spara dove c'è questo bersaglio spara il bersaglio, voglio capire girando cosa fa continua a sparare il bersaglio può essere che c'è nulla perché si attaccano continua a sparare spara 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 spara, spara così a sparare voglio capire se il fatto che gira porta a qualcosa continua a sparare cioè se c'è qualche superficie che ma io non sento niente allora ma può essere che da un lato attacca e voglio capire questo gira no tu continua a sparare continua a sparare continua a sparare voglio capire se c'è modo di farlo attaccare in qualche lato o da qualche parte è allucinante non si attacca allora allora sappiamo che come si arriva lì e ci deve arrivare uno perché è fatto apposta perché c'è chi ha il io devo arrivare lì perché io sparo questo coso qua no posso vedere una cosa aspetta r1 io mi aggrappo ho sbagliato sbagliato ok cosa vuoi vedere posso andarci un attimo a me e prova però sai quel discorso no ti spiego tu ci arrivi lì il problema è un altro che a quella altezza non puoi arrivare da nessuna parte io devo agganciarmi lì poi tu spari il coso rialza e a quel punto io posso arrivare capito quel discorso per questo dico ora sparagli ecco vedi ora sei rialzato e ora posso arrivare qua ok io sono arrivato qua intanto qua mi fanno ingrappati così sono arrivato qua ma può essere che più in alto spari a quella cosa no non è questo e tu puoi toglieri in acqua no ecco continua a sparagli magari scoprono qualcosa in un lato che posso sfruttare per qualche cosa ma 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 perché alla così com'è io non posso superarlo sto coso ma ma ancora posso fare niente cioè è assurdo ma proprio e non si attacca niente buon cacchio non si attacca cioè stai tornando indietro non so no e non non devi non ti serve non devi non ti serve non è parte superata quello non c'entra niente aspetta 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 torna dovevi prima gira a sinistra guarda più più in basso quello cos'è è appunto ma secondo me gli sperano no quello no è sceneggiatura è scenografia fa bianciamento vale no ma non fa bianciamento sto giù fuori è scenografia tesoro non guarda ho capito ma non vedi non si attacca non fa niente tesoro lo so ma che è succede qua com'è eh buh sarebbe interessante capirlo no non si attacca proprio niente non si attacca proprio allora se mai allora a meno che no non ci arriverò mai sopra lì non ci arrivo però eeeh sto caduto va bene aspetta però aspetta gioia riesci a sparare riesci a vedere in qualche modo sparare dove ho tirato io l'elma il mina ci riesci in qualche maniera sei un poco più basso mira non ho fatto niente ok aspetta stai ferma dove sei eh ma veramente no eeeh aspetta un attimo fammi analizzare la cosa cacchio ste foglie di da telecamera ok perché se mi alzo la tanto non non gioia stai andando indietro l'anno l'ho capito eh gioia te l'hai capito perché ci stai andando ma è possibile mai ci sfuggirà qualcosa sicuro gioia non è che ci sfuggirà qualcosa c'è qualcosa e ci sfugge c'è poco la gioia puoi sparare aspetta puoi sparare di un almirino del coso di latta dai un colpo un colpo vuoi farlo girare un po' aspetta eh ma un solo colpo eh di nuovo ma di nuovo fa due giri non mi fa di nuovo prova a sparare dove c'è il nero nero accanto mirino eccola il nero non reagisce ok quindi gira solo da un lato ok potresti sparare tu sul nero eh ma se tu sparai sul nero aspetta vediamo è solo che io come lo penso il nero da qui allora aspetta allora non nero non nero che è scocciatura aspetta aspetta prova 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 a sparargli no buona sorella è una bella persona eh che prova prova a sparare al mirino prova a sparare al mirino hai fatto un attimo prova a sparare al mirino non gli fa niente è sceneggiatura è sceneggiatura tesoro è sceneggiatura è sceneggiatura è scenografia vabbè pure io prova a sparare al mirino al mirino al mirino ancora al mirino ah oh no ma dove devi usare quanto sorella e l'abito ognà ah ah ma non può andare più in alto giusto no è allucinante ok non dico in qualche modo si è sganzato qualcosa deve succedere dobbiamo capire cosa ma qualcosa dobbiamo far succedere qualcosa non lo so nelle piante boh qua ma pare difficile quello dico boh prova a sparare in alto sono pure i piatti in quindi sì allora beh all'arriva tu colpire la ruggine boh non lo so no la ruggine non che sia ruggine o sia più in basso lo stesso rompia non non tiene allucinante aspetta ah ma vedi che cosa stupida che era spara spara al mirino al mirino amore gioia molto semplice ma granfo spara oh ecco siamo rimeciliti niente tu non devi fare niente guarda che ok e passiamo siamo furbi siamo furbi aspetta sperimenti con un acorno sono veramente no guarda quei coili tesla questi coili sembra più capabili che pensavo eh vedo cosa succede nella mia vecchia città c'è davvero niente da vedere solo guarda per quei barbarici che non potrebbero mai capire il potere la tecnologia nocciola e dove fai a me il gelato nocciola piace pure la crema nocciola ah non lo vuoi nocciola però io dire che per questa puntata possiamo fermarci qua abbiamo perso mezz'ora di tempo su un baratto siamo efficienti proprio scattare comunque signori detto questo prima che la mia ragazza sputi un polmone io vi saluto vi salutiamo ciao a tutti e vi diamo appuntamento alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti